Fanno venire i brividi, traspetta emozioni. Fantastica! Esprimeva tutta la sua potenza come la Formula 1 a regge di anni. E qui stiamo già passando nell'era moderna. La domanda era questa, riusciremo a fare meglio della Enzo? E direi che siamo riusciti pienamente a fare molto meglio della Enzo. Ti permette di sfruttare da tutta e ti dà grandi emozioni. Tutte hanno il suo significato. Grazie per la visione!